ciao ragazzi come state benvenuti a questo nuovo video ieri era natale oggi faccio vedere della juventus del gol di cristiano ronaldi adesso vi mostro vedere ascolta guarda se io clicco qua andate guarda guarda si è arrivato gol c'era il portiere della juve davanti e ronald ha fatto il gol ha segnato il gol di ronaldo e ha vinto la juve contro la juve ha vinto contro la roma juventus roma la roma in serie a io fico qua avanti congratulati aspettate se io devo uscire primo eccoci qua raga adesso vi mostro vedere le squadre di calcio prima prima abbiamo la juventus poi manchester city poi manchester unità id pari sanger poi pari san german poi real madrid poi la roma poi tottenham poi atletico madrid poi bayern monaco borussia e dortmund poi borussia dortmund e fine la juve vi è piaciuto questo video ragazzi se volete iscrivermi cercate nata un sera su youtube o altre cose sull'app di google ci vediamo presto nuovo video ciao 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 ciao